In iSiera migliora in maniera esponenziale la lettura e la gestione del pdf con voiceover. Facciamo questo esercizio, apriamo Safari e scriviamo nella barra di ricerca modulo spazio pdf. In linea generale dovete avere gli seguenti risultati. Ok, premiamo questo primo link con v barra spazio e apriamo il pdf all'interno della pagina web, quindi in Safari. Cosa succede? Succede che anche qua possiamo navigare i contenuti interagendo con le aree pdf. V freccia a destra, documento gruppo, interagiamo, pagina 1 e interagiamo. Se vogliamo leggere pagina 2 interagiamo con pagina 2. Comunque, anche se noi partiamo da pagina 1, facendo vo destra andremo successivamente in pagina 2. Guardate un attimo. Pagina 2. Come vedete facendo vo freccia a destra siamo andati a pagina 2. Vediamo adesso come salvare questo modulo pdf per compilarlo. Comunque, comanda S, mi dà già il nome, devo solo scegliere dove salvarlo, lo salvo sulla scrivania, comanda shift D e faccio invio. Porto in primo piano il finder, comanda shift D, apro la finestra della scrivania, comanda freccia giù e si apre il pdf in anteprima, barra strumenti, inizio finestra, vo destra, qua troviamo diciamo le iconcine di tutte le pagine, vo destra, documento gruppo, interagiamo, pagina 1 interagiamo, e adesso vi faccio vedere come si compila. Vo destra. Ok, state attenti. Cognome, campo di testo, comanova, tab, rossi, nato barra il campo di testo modificabile. In questo modo, come vedete, se il modulo è stato creato seguendo i canoni di accessibilità, noi possiamo compilarlo. E' veramente una cosa molto bella e speriamo che, insomma, piano piano anche i moduli che troviamo sono accessibili.